negli ultimi due tre mesi io ho coordinato un gruppo di lavoro per conto del ministero dell'università e della ricerca che al quale è stato chiesto di stilare quello che è il piano nazionale della ricerca per il settennio 2021-2027 in parallelo con quello che è il nono programma quadro a livello europeo quello che si chiama orizzonte europa bene nell'ambito del cluster 4 quello che riguarda le tecnologie digitali industriali e dell'aerospazio la robotica insomma è stata promossa potremmo dire ad essere un ambito strategico bene noi abbiamo lavorato in questi mesi abbiamo anche fatto una fase di consultazione pubblica con tutti gli stakeholders con con i gruppi di ricerca universitari dei centri di ricerca delle piccole e medie imprese delle grosse aziende e abbiamo prodotto questo documento in cui abbiamo immaginato che lo sviluppo della robotica e c'è un'eccellenza in italia nella robotica basti pensare che secondo puntando l'occhio su quello che sono le metriche in campo scientifico e l'impatto della ricerca bene secondo tre indicatori universalmente accettati della banca dati scival che fa capo a scopus per capirci bene secondo questi tre indicatori l'italia è al primo posto al mondo secondo uno di queste metriche ed è al secondo posto al mondo dietro gli stati uniti quindi abbiamo effettivamente una eccellente preparazione di base che tra l'altro per vocazione culturale stessa dell'italia è fortemente interdisciplinare e allora venendo a queste articolazioni che cosa abbiamo riscontrato che il queste articolazioni sono state molto verticali su richiesta specifica del ministero per quanto riguarda gli scenari applicativi bene i sei scenari applicativi che abbiamo previsto è quello classico della robotica industriale quindi quello che fa riferimento all'impresa 4.0 poi abbiamo la robotica in ambiente ostile o comunque scarsamente strutturato poi abbiamo la robotica per l'ispezione e la manutenzione delle infrastrutture critiche poi abbiamo un altro settore molto importante per la realtà italiana che è la robotica del settore agroalimentare ancora abbiamo la robotica per la salute e infine last but not least robotica per la mobilità e per i veicoli autonomi è già perché anche un auto autonoma secondo un'estensione del concetto di robot di sistema robotico in realtà è un robot a tutti gli effetti che cosa questo esercizio che abbiamo svolto negli ultimi mesi ci ha portato a riconoscere la robotica collaborativa come un attore assolutamente polivalente ai fini della verticalizzazione e delle diciamo dell'efficienza di quelli che sono scenari applicativi dove la robotica può portare effettivamente un beneficio certamente il cobot è il come dire l'icona potremmo dire del del programma in pre industria 4.0 impresa 4.0 ma non è solo una applicazione di robotica collaborativa in campo industriale perché perché anche per esempio per la robotica in ambienti ostile o scarsamente strutturato è quanto mai significativo sviluppare un sistema che sia in grado di consentire all'uomo all'essere umano di interagire con la macchina e infatti in questo contesto noi abbiamo introdotto un nuovo acronimo che secondo noi è molto importante della naturale evoluzione di quello che è stato nel precedente decennio ventennio lo sviluppo delle ICT cioè delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione noi andando a coniugare l'intelligenza fisica con l'intelligenza cognitiva potremmo dire abbiamo coniato questo termine di IAT che sta per tecnologie dell'interazione dove la A della parola azione nel termine interazione volutamente capitalizzata per per enfasizzare per sottolineare l'importanza dell'azione fisica e allora in un contesto di robotica ostile o robotica in ambiente poco strutturato noi sicuramente troviamo la robotica collaborativa perché perché per esempio potremmo realizzare estrapolando il concetto di smart working che ha caratterizzato gli ultimi mesi di tutti i paesi del mondo potremmo anche pensare a un concetto di physical smart working perché perché l'ambiente ostile in quel caso viene visto come un ambiente a rischio contagio e ancora nel settore della ispezione e manutenzione delle infrastrutture è quanto mai significativo consentire all'operatore di non solo teleoperare un sistema a distanza dove non c'è tanto di collaborazione ma di guidarlo di manovrarlo con quello che si può chiamare in gergo uno share control cioè un livello di autonomia condiviso condiviso tra operatore e macchina e la stessa cosa avviene nel campo agroalimentare per esempio per la raccolta della frutta e per fatto anche agroalimentare significa anche per garantire condizioni di igiene e questo è particolarmente significativo ora per cui bisogna diciamo operare in ambienti sanificati e in qualche modo quanto più puliti quanto più bianchi possibili e ancora nel settore della salute noi troviamo la robotica collaborativa sia come evoluzione naturale di quelli che sono i sistemi attuali per la robotica chirurgica che badiamo bene e sono ancora al livello zero di una ideale carta di livelli tassonomia di livello perché attualmente il sistema da vinci che quello in uso nella maggioranza degli ospedali delle sale operatorie per la robotica chirurgica per la chirurgia robotica è un sistema in cui è meramente teleoperato nel senso che il chirurgo dietro una console dà i comandi ma non interagisce e il robot esegue passivamente e in maniera blind i comandi impartiti dal terminale dal joystick dalla console mentre invece ci sono alcune chirurgie dove è richiesto un ausilio del robot perché un chirurgo stanco un chirurgo affaticato oppure un chirurgo in una fase di training può avere beneficio da un robot che per esempio può aiutare a migliorare una sutura realizzare un'anastomosi in maniera più accurata poi è chiaro che ci sarà sempre l'autonomia decisionale del chirurgo che si prende la responsabilità anche da un punto di vista legale professionale e deontologico e ancora troviamo la robotica collaborativa anche per quanto riguarda la mobilità perché perché probabilmente non avremo i veicoli totalmente autonomi oppure i droni che scorrazzano nei cieli degli ambienti urbani però ci sarà un livello di condivisione per cui si possono raggiungere alcuni livelli di autonomia d'altra parte negli autoveicoli noi abbiamo già questi strumenti questi ausili che per esempio hanno avverto nel guidatore dell'attraversamento di un pedone oppure un momento di stanchezza un momento diciamo di in cui una persona si addormenta alla guida oppure un potenziale urto quindi se noi andiamo a estrapolare il concetto della robotica collaborativa ci siamo accorti che è questa tecnologia fortemente abilitante che hanno la polivalenza su tutti quelli sono gli scenari applicativi in cui noi come gruppo di lavoro e il ministero con noi crede quello che stiamo osservando negli ultimi anni è un forte gradiente tecnologico ci sono delle tecnologie tipo l'intelligenza artificiale e la stessa robotica che stanno diventando sempre più pervasive allora la domanda che viene quasi naturale porsi queste tecnologie sono sostitutive di alcune funzioni di alcune mansioni dell'uomo oppure possono essere di ausilio per l'uomo guardiamo un attimo quello che è successo con con internet oppure con le grosse rivoluzioni tecnologiche all'inizio si è pensato che per esempio a causa di internet le agenzie di viaggio non avessero più la possibilità di lavorare e così tanti altri tante altre mansioni che sono state sostituite con un semplice click nel senso che in maniera diciamo totalmente autonoma è possibile stando seduto a un computer come in questa fase di semi lockdown di lockdown di di lavorare di interagire con il mondo esterno allora se noi ora proiettiamo quello che sta avvenendo 20 anni dopo 30 anni dopo con la pervasibilità di intelligenza artificiale e di robotica noi stiamo stiamo andando oltre i confini non solo da un punto di vista digitale ma anche da un punto di vista tecnologico che cosa voglio dire abbiamo delle tecnologie al totale servizio dell'uomo quindi è una sorta l'uomo è di nuovo al centro del mondo al centro e oltre i confini che possono essere rappresentati da una difficoltà di realizzare un certo compito oppure dalla difficoltà che di far funzionare una certa macchina e quindi grazie alla alla robotica noi abbiamo la possibilità di avere una tecnologia totalmente al servizio dell'uomo che andrà a semplificare la nostra vita quindi non solo i robot ci dispenseranno da alcune mansioni fisiche che potremmo definire sgradevoli o a volta è anche pericolose frustranti ma potremo grazie a questa tecnologia avere molto più tempo a disposizione per esprimere la nostra creatività quindi così come è avvenuto col digitale col con internet la robotica coinvolgendo la parte quella che potremmo dire l'intelligenza fisica delle macchine ci assisterà in una sorta di nuovo umani umanesimo digitale e tecnologico che riguarda una realtà estesa che vada a oltrepassare i miei confini almeno questa è la mia è la mia visione se se mi aveste chiesto questa domanda cinque anni fa dieci anni fa avrei risposto con molta più cautela perché perché c'era una certa diluttanza ad accettare questo cambiamento di scenario e a capire quelle che in effetti negli ultimi anni si sono rivelate le grosse potenzialità offerte dalla robotica per fare in modo che la robotica collaborativa diventi a tutti gli effetti una tecnologia pervasiva non solo degli scenari industriali ma anche negli scenari che riguardano la cosiddetta robotica di servizio quindi tutte quelle applicazioni di cui facevo menzione poca anzi che spaziano dall'ambiente ostile al settore agroalimentare all'ispezione di infrastrutture la salute anche per la mobilità qual è l'impellenza maggiore l'impellenza maggiore l'esigenza maggiore se noi volessimo scrivere questa carta della robotica collaborativa a mio avviso riguarda proprio la intuitività la estrema semplificazione dell'utilizzo di un robot e dal momento che siamo in questo contesto di robotica collaborativa noi vogliamo che l'utente l'operatore l'essere diciamo della strada qualunque diciamo fruitore di questa tecnologia possa arrivare a utilizzare un robot con la stessa immediatezza con cui si utilizza per esempio uno smartphone o un tablet che cosa voglio dire voglio dire che all'inizio per me almeno che ho 60 anni c'era una certa riluttanza a dimenticare la tastiera il mouse e a interagire col soft touch nel senso guardando lo schermo guardando lo schermo e con due litina facendo con due litine allargando allo stringendolo e interagire con 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 un computer tutto sommato perché lo smartphone il tablet un computer in maniera intuitiva allora perché è avvenuto questo perché la tecnologia ha messo a disposizione il fatto che è utilizzabile da chiunque utilizzabile dal millennial che magari è nato in un'era in cui il soft touch aveva già sostituito quelli che erano i comandi meccanici no quindi c'è la virtualizzazione il fatto la digitalizzazione di un'azione fisica e allora a questo riguardo se noi poniamo l'accento su quelli che sono i due sensi dell'uomo più importanti quindi parlo della visione e del tatto ci accorgiamo come la visione può essere in qualche modo digitalizzata in maniera naturale e fruibile su grosse quantità di dati quindi possiamo costruire un cloud un big data di grossi dati visuali e renderli fruibili a qualunque distanza a qualunque attitudine la stessa cosa non è per il tatto perché perché il tatto riguarda una percezione locale con un numero di dati molto più molto molto ridotto e infatti un bambino impara a alferrare a manipolare gli oggetti come sua prima interazione di vita infatti poi c'è questa tendenza di portarli alla bocca no per esplorarli e questo riguarda un'intelligenza che in campo scientifico noi parliamo di embodied cognition cioè di embodiment cioè di intelligenza integrata nel body cioè nella realtà fisica allora se noi vogliamo che un robot che offra questo plus della cooperazione della collaborazione con l'essere umano il suo uso deve essere quanto più semplice possibile deve essere intuitivo e quindi non solo c'è la customizzazione se mi passate questo neologismo del del task robotico per cui è più facile sviluppare l'applicazione senza stare a digitare istruzioni oppure tantomeno a programmare con linee e linee di codice un robot d'altra parte io insegno robotica all'ultimo anno di un percorso di laurea magistrale in un corso che si chiama fondamenti di robotica e che quindi fondamenti arrivano solo al culmine a valle di una solita preparazione non solo sulla parte matematico fisica di base ma anche sulla meccanica sull'elettronica sull'informatica sulle misure sui controlli automatici e via dicendo e allora solo gli esperti possono utilizzare robot è qua che si gioca la partita no perché perché deve essere utilizzate dall'operaio in officina dal tecnico deve essere utilizzabile dall'artigiano deve essere utilizzabile dall'insegnante in una scuola deve essere utilizzabile da un infermiere in un ospedale e così via quindi deve essere una tecnologia semplice al pari di tutti quegli strumenti tecnici che noi utilizziamo senza consultare il manuale di istruzioni quindi deve essere estremamente intuitivo ecco questo a mio avviso è l'esigenza fondamentale su cui si giocherà la partita cioè la pervasività e la ubiquità di questa tecnologia che diventa così diciamo integrata nelle nostre funzioni manzioni lavorative e anche nelle nostre funzioni di vita funzioni sociali al punto tale che non ci faremo più caso tutti quanti noi diamo per scontato che abbiamo un computer tutti quanti abbiamo uno smartphone ed è una tecnologia perfettamente integrata con l'uomo quindi questo a mio avviso è la scommessa è l'esigenza primaria di quella che può essere lo sviluppo naturale della robotica collaborativa negli anni a venire